Buongiorno, oggi ci troviamo a Butta Pietra in provincia di Verona. Siamo in una serra di latture cappuccina Synopsis, trapiantata a metà ottobre. Si tratta di una varietà di latture cappuccina di colore verde medio con un portamento aperto che tarda a impallare. Il fondo si presenta molto sano con un taglio di piccole dimensioni, lavorabile molto facilmente, è elastica, si manipola molto bene nell'incassettamento, si mantiene sufficientemente eretto per un'antenza sano durante la coltivazione e come potete vedere il pianto si presenta così. Synopsis è dotata di resistenza completa alla Bremia, dalla razza serica a 36 ed è adatta per i trapianti del periodo di ottobre in serra. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!